Il 14 luglio scadono i termini per presentare la propria candidatura per essere direttore delle gallerie degli uffizi, una presa della Bastiglia a cui anche lei parteciperà? Beh, ogni direttore deve compiere una rivoluzione rispetto al precedente, perché no? In fondo posso solo dire che sarebbe un coronamento di una carriera e di un amore per questa città assoluto, che mi ha legato a Firenze da quando ragazzo, giovane studente all'Università di Storia dell'Arte, con Gregori del Bravo, ero poi anche però in quel caso all'interno degli uffizi perché collaboravo con la sezione didattica, per cui la mia preparazione è tutta fiorentina, è tutta nata, cresciuta, è maturata in questa città. Poi sarebbe interessante vedere il più grande museo rinascimentale sintetizzo con un occhio così contemporaneo e attuale come il suo. Il contemporaneo ci aiuta a rileggere e guardare l'antico e ritengo che proprio di questo abbiamo bisogno, di una rilettura non solo dei nostri capolavori, del nostro patrimonio, ma anche dell'impianto museologico, più dalla prospettiva dell'attualità, del presente e quindi anche del futuro, che da posizioni ormai superate.